Il libro precedente, lo dedicato o teofilo, ad esporre tutto ciò che Gesù ha operato e insegnato dall'inizio fino al giorno in cui, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, fu assunto in cielo. È a questi stessi apostoli che si era mostrato vivo dopo la sua passione, con molte prove convincenti. Durante quaranta giorni era apparso loro e aveva parlato delle cose del Regno di Dio. Stando con essi a tavola, diede loro ordine di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di aspettare la promessa del Padre che, disse, avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo, di qui a non molti giorni. I convenuti lo interrogavano, dicendo, Signore, è questo il tempo in cui tu intendi restituire la potenza regale ad Israele? Egli rispose loro, Non sta a voi il conoscere i tempi e le circostanze che il Padre ha determinato di propria autorità, ma lo Spirito Santo verrà su di voi e riceverete da Lui la forza per essermi testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi lo stavano guardando, fu levato in alto, e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Stavano con lo sguardo fisso verso il cielo, mentre egli se ne andava. Ed ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro, dicendo, Uomini di Galilea, perché ve ne state guardando verso il cielo? Questo Gesù che è stato assunto di mezzo a voi verso il cielo, verrà così, in quel modo come lo avete visto andarsene in cielo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto, che si trova vicino a Gerusalemme quanto il cammino di un sabato. Entrate in città salirono nel locale del piano superiore dove abitavano. Vi erano Pietro, Giovanni, Giacomo ed Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti costoro attendevano costantemente con un cuor solo alla preghiera, con le donne e Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. In quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, riuniti insieme in circa centoventi persone, disse «Fratelli, era necessario che si adempisse la parola della scrittura, predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda, il quale si fece guida di coloro che catturarono Gesù, dal momento che egli era stato annoverato tra noi e ricevette la sorte di questo ministero. Costui dunque si comprò un campo con il prezzo dell'ingiustizia e precipitando si spaccò in mezzo e si sparsero tutte le sue viscere. Ciò fu noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, cosicché quel campo fu chiamato, nel dialetto loro, a Keldamah, ossia campo del sangue. È infatti scritto nel Libro dei Salmi «Divenga la dimora di lui deserta e non vi sia chi abiti in essa e l'ufficio di lui lo prenda un altro». Occorre dunque che uno tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo in cui dimorò tra noi il Signore Gesù cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu di tra noi assunto al cielo «Divenga testimonio con noi della sua risurrezione». Ne furono proposti due Giuseppe, chiamato Barsabba, che era soprannominato giusto e Mattia e pregarono dicendo «Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti mostra quello che hai scelto tra questi due per prendere il posto di questo ministero e apostolato da cui prevaricò Giuda per andare nel luogo suo». E gettarono le sorti per essi e la sorte cadde su Mattia che fu aggregato agli undici apostoli. Il giorno della Pentecoste evolgeva al suo termine ed essi stavano riuniti nello stesso luogo. L'improvviso vi fu dal cielo un rumore come all'irrompere di un vento impetuoso che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Apparvero ad essi delle lingue come di fuoco che si dividevano e che andavano a posarsi su ciascuno di essi. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava ad essi il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei devoti provenienti da tutte le nazioni del mondo. Al prodursi di questo rumore incominciò a radunarsi una gran folla eccitata e confusa perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Fuori di sé per la meraviglia dicevano Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua nativa? Parti, medi e lamiti abitanti della Mesopotamia della Giudea e della Cappadocia del Ponto e dell'Asia della Frigia e della Panfilia dell'Egitto e delle regioni della Libia presso Cirene romani qui residenti sia giudei che proseliti cretesi e arabi tutti quanti li sentiamo esprimere nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Tutti erano sbalorditi e non sapevano che pensare e andavano domandandosi gli uni agli altri che cosa vuol dire tutto ciò? Altri poi beffandoli dicevano sono ubriachi di mosto dolce. Allora Pietro in piedi con gli undici levò alta la voce e parlò loro così Voi giudei e abitanti tutti di Gerusalemme fate attenzione a ciò che sto per dire e porgete l'orecchio alle mie parole. Costoro non sono ubriachi come voi pensate poiché sono soltanto le nove del mattino si sta invece verificando ciò che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Negli ultimi giorni dice il Signore effonderò il mio spirito su ogni essere umano e profeteranno i vostri figli e le vostre figlie i vostri giovani vedranno visioni e i vostri anziani sogneranno sogni certo sui servi miei e sulle mie ancelle effonderò in quei giorni il mio spirito e profeteranno farò prodigi in alto nel cielo e segni prodigiosi giù sulla terra sangue e fuoco e vapori di fumo il sole si trasformerà in tenebre e la luna in sangue prima che venga il giorno del Signore il gran giorno sfolgorante allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo. Uomini di Israele udite queste parole Gesù il Nazareno fu un uomo accreditato da Dio presso di voi con prodigi portenti e miracoli che per mezzo di lui il Signore operò in mezzo a voi come voi ben sapete Dio nel suo volere e nella sua provvidenza ha permesso che egli vi fosse consegnato e voi per mano di empi senza legge lo avete ucciso inchiodandolo al patibolo ma Dio lo ha risuscitato liberandolo dalle doglie della morte poiché non era possibile che la morte lo possedesse dice infatti Davide a suo riguardo vedevo il Signore davanti a me continuamente perché egli è alla mia destra affinché non vacilli perciò si rallegra il mio cuore e le mie parole sono piene di letizia io benché essere mortale riposerò nella speranza perché non abbandonerai l'anima mia nello sceol né permetterai che il tuo fedele veda la corruzione mi hai fatto conoscere i sentieri della vita mi colmerai di gioia con la tua presenza fratelli parliamoci francamente il nostro patriarca Davide morì e fu sepolto il suo sepolcro si trova in mezzo a voi fino a questo giorno ma egli era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono uno della sua discendenza perciò prevedendo il futuro parlò della risurrezione del Cristo quando disse che non sarebbe stato abbandonato allo sceol né la sua carne avrebbe visto la corruzione questo è quel Gesù che Dio ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni egli è stato dunque esaltato dalla destra di Dio ha ricevuto dal Padre il dono dello Spirito Santo secondo la promessa ed ha effuso questo stesso Spirito come voi ora vedete e ascoltate infatti Davide non ascese al cielo tuttavia egli dice disse il Signore al mio Signore siedi alla mia destra finché ponga i tuoi nemici sgabello dei tuoi piedi sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo questo Gesù che voi avete crocifisso a queste parole furono profondamente turbati e dissero a Pietro e agli altri apostoli che cosa dobbiamo fare fratelli Pietro rispose loro pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono del Santo Spirito per voi infatti è la promessa e per i figli vostri e per tutti coloro che sono lontani che il Signore Dio nostro chiamerà e con molte altre parole li scongiurava e li esortava salvatevi da questa generazione perversa essi allora accolsero la sua parola e furono battezzati e in quel giorno si aggiunsero a loro quasi tremila persone essi partecipavano assiduamente alle istruzioni degli apostoli alla vita comune allo spezzare del pane e alle preghiere in tutti si diffondeva un senso di religioso timore infatti per mano degli apostoli si verificavano molti fatti prodigiosi e miracoli tutti i credenti poi stavano riuniti insieme e avevano tutto in comune le loro proprietà e i loro beni li vendevano e ne facevano parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno ogni giorno erano assidui nel frequentare insieme il tempio e nelle case spezzavano il pane prendevano il cibo con gioia e semplicità di cuore lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo il Signore aggiungeva ogni giorno al gruppo coloro che accettavano la salvezza è glorioso Grazie a tutti.